Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Si continua indefessamente a discutere a proposito dell'orsa in Trentino. Cosa è successo? È successo che un orsa ha aggredito un viandante che stava passeggiando nel bosco e purtroppo lo ha ucciso. A questo punto si è aperto un dibattito che è divenuto letteralmente ingestibile, dato che ha saturato tutti gli spazi giornalistici, televisivi, delle reti sociali e così via. Che fare dell'orso? Due linee principali. La linea animalista che dice lasciamo l'orso lì, dov'è? Perché la natura va rispettata, non abbiamo alcun diritto di sottometterla alle nostre leggi. La linea opposta dice no, dobbiamo intervenire perché il centro di tutto è l'uomo e quindi dobbiamo catturare l'orsa e giustiziarla di modo che non possa mai più commettere gesti come quello. Allora, due linee che mi paiono ugualmente unilaterali, perché è giusto difendere l'uomo come anche è giusto difendere la natura, ma non per questo possiamo, in nome della difesa della natura, lasciare che gli orsi sbranino gli uomini. Ne possiamo, in nome della difesa dell'uomo, distruggere, come già stiamo facendo da tempo, la natura. Che fare dunque per riprendere il vecchio quesito leniniano? A mio giudizio, vi propongo la mia interpretazione, bisognerebbe creare delle aree protette in cui gli animali aggressivi come l'orso possano vivere sereni e tranquilli senza nuocere all'uomo. Ecco, quindi una linea compromissoria tra la prima e la seconda, rispetto della natura e degli animali e rispetto anche della vita dell'uomo, naturalmente. Questa posizione sembra però non incontrare il consenso né della prima né della seconda, perché i duri e puri dell'ambiente vogliono lasciare libero l'orso, l'orsa anzi. I duri e puri della linea antropocentrica vogliono invece uccidere l'orso in nome dell'interesse umano. Tra l'altro mi pariano due posizioni ugualmente unilaterali e fuorviati, ma pensate al paradosso dell'applicare categorie della giustizia e della morale al mondo animale e al mondo vegetale. Come si può pensare di giustiziare un orso perché si è comportato male, perché ha commesso un reato? È una follia, in realtà si tratterebbe semplicemente di una vendetta, di questo si tratterebbe, di una vendetta crudele quanto inutile.